Il viaggio delle opere del pittore barese Mauro Piccini Leopardi in arte che zal inizia da Roof Garden Polvere di Stelle del Bosco Hotel delle Nazioni di Bari. Da qui, tra circa due mesi, le opere saranno trasferite ed esposte a rotazione in una delle oltre 20 strutture del boscolo in Europa. Nel vernissage sono stati presentati dipinti su tela alcuni di grandi dimensioni, dominate dall'azzurro intenso, dal marrone, dal verde, dal rosso, dal giallo. Opere ispirate al mondo precolombiano, con un occhio alla Beat Generation e alla New Age, suggestioni miscelate anche con influssi europei che riflettono la lezione di Miró e Clì. Simboli, animali trasfigurati, dei, a Bari sono in mostra otto dipinti dell'artista che ama viaggiare e che dirige la quadreria de Nertog. Una delle opere raffigura il sesto sole, il sole della coscienza cosmica solare, simbolo della nuova era, del calendario astronomico maia.